Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono Stefania. Oggi voglio condividere con tutti voi la ricetta ed il procedimento per realizzare la crema per la Kinder Fetta al Latte. Gli ingredienti per realizzare la farcia della Kinder Fetta al Latte sono un cucchiaino di miele, 80 g di latte condensato patto in casa, 2 g di gelatina in fogli, una fiala di aroma alla vaniglia e 170 g di panna di soia. Per far sciogliere la gelatina in fogli la metto in acqua molto fredda per almeno 10 minuti. In una ciotola dai bordi alti verso il latte condensato, lezzato di vaniglia e il bile e le amalgamo per bene. In un pentolino metto a scaldare 50 g di panna, che non deve bollire ma deve essere soltanto bella calda, alla quale devo aggiungere la mia gelatina ben strizzata. Mescolo per bene per farla sciogliere tutta. La lascio raffreddare un po' e poi la unisco al composto di latte condensato con il miele. La restante panna la devo montare a neve ben ferma con un pizzico di sale, aggiungendogli pian piano il composto ottenuto prima con il latte condensato. Chiudo il contenitore e la faccio riposare in frigo per almeno un'ora. Il mio video termina qui, spero vi sia piaciuto. Mi raccomando lasciatemi tanti pollici in su, vi lascio qui accanto il video precedente e per non perdere nessun video iscrivetevi al canale e seguitemi sui social. Vi aspetto!